Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Salute e Benessere, terzo appuntamento di questa quarta stagione e stasera parliamo di batteri, di virus, parliamo di questo con il professor Matteo Bassetti, direttore della struttura operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale universitario di Udine. Professore buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Lo spunto per questa trasmissione mi è arrivato ascoltando la radio nei giorni scorsi il professore in cui si parlava di batteri e la domanda era ma se io raccolgo un biscotto, un crackers che mi è caduto a terra, posso mangiarlo o rischio di ingerire batteri pericolosi e quindi di beccarmi qualche infezione batterica? La risposta l'ho ascoltata anche alla radio ma vorrei che lei mi desse la conferma. Ma guardi, il mondo in cui viviamo è il mondo dei batteri, per cui i batteri sono dappertutto e grazie anche ai batteri che ci sono sapori, odori e altre cose, per cui il stigmatizzare troppo i batteri è sbagliato perché noi conviviamo con i batteri, se noi adesso potessimo fare dei tamponi sulle nostre mani o sulla nostra giacca o sulla sedia avremmo sicuramente una quantità enorme di batteri. Avere i batteri non vuol dire necessariamente che i batteri siano tutti cattivi perché i batteri, come ho detto, fanno parte anche della nostra flora intestinale, orale, cutanea e quindi voglio dire il fatto che cada un biscotto per terra e doverlo buttare via è sbagliato personalmente, credo, a meno che non sia caduto all'interno della tazza del batter, ecco voglio dire. Di sapo. Ecco, esatto. Allora c'è sempre un, cioè bisogna sempre… Buon senso. Ci vuole il buon senso, ci vuole il buon senso come anche il buon senso nell'utilizzare i disinfettanti, il buon senso come utilizzare i saponi. Noi diciamo sempre che bisogna lavarsi le mani perché è bene lavarsi le mani, perché lavarsi le mani vuol dire non portare i batteri che avevano sulle mani alla bocca o alle altre persone. Alla radio dicevano fino a 10-12 volte al giorno. Beh, oddio, io penso che le mani vadano lavate, sicuramente sempre quando si va in bagno, per cui quando si va in bagno a fare qualunque tipo di procedura bisogna lavarsi le mani. Bisognerebbe lavarsene prima e dopo, perché quando ovviamente si viene a contatto con i genitali sarebbe bene evitare di portare i batteri di un'altra parte. E poi sicuramente le raccomandazioni della nonna, cioè io devo dire che anche quando i miei figli torno alla casa ho cercato di insegnarglielo, però c'è meno. Io mi ricordo quando eravamo bambini, tornavamo a casa, la prima cosa che si faceva prima di entrare in casa, appena si entrava in casa era di lavarsi le mani. Oggi se ne lavano meno, forse perché sbagliamo anche noi come genitori, come educatori, come insegnanti a non insegnarglielo più, però il lavaggio delle mani, 10-12 volte al giorno, mi pare francamente persino esagerato. Ecco, io credo che lavarsi le mani dopo essere andati prima e dopo essere andati in bagno e quando si ritorna a casa o quando si è fatta quale progetto sia più che sufficiente. Ecco, lei diceva che i batteri non necessariamente sono, tra virgolette, cattivi, del resto è anche la prima forma di vita, o sbaglio? Esattamente. Quando si dice su Marte si cerca l'acqua e se nell'acqua c'è un battero vuol dire che può esserci vita. Esattamente. Quindi i batteri, ripeto, sono molti di più di noi, sono più veloci a riprodursi, sono presenti sulla Terra da molto prima di noi, per cui il mondo è più loro che nostro. E quindi la guerra contro i batteri, che io combatto e che noi medici combattiamo, è quella contro i batteri in qualche modo cattivi, i batteri che sono diventati resistenti, i batteri che causano malattie infettive. Però, ripeto, non è detto che avere dei batteri addosso voglia necessariamente dire avere una malattia. Si può essere colonizzati, si può essere portatori, ci possono anche essere, e meno male che ci sono, i batteri buoni. Ci sono anche naturalmente i medicinali che combattono i batteri cattivi. Prima di arrivare al medicinale, però, quali sono le infezioni batteriche più comuni, più banali di cui si sente parlare e per le quali a volte dobbiamo curarci? Le infezioni batteriche, forse la più banale e che tutti nella nostra vita ne abbiamo avuto modo di avere un'esperienza, sicuramente sono quelle dell'acute. Banalmente pensiamo al pelo incarnito che si infiamma e che si infetta quando esce il pus, quella roba bianco già all'astra, quella è una prima forma di infezione, una delle più frequenti, che non ha bisogno di una terapia antibiotica, banalmente basta far fuoriuscire il contenuto del pus e si guarisce. E questa è la forma forse più comune, credo che con la quale tutti abbiamo avuto modo di confrontarci. E poi pensiamo a tutte le infezioni delle alte vie respiratorie e le infezioni delle virulinarie, quindi fondamentalmente quante signore nella loro vita hanno avuto modo di avere a che fare con un'infezione delle virulinarie, lì c'è un germe che si chiama scherichia coli, che è forse tra i più frequenti. La cestite, per esempio. La cestite, semplice. E poi abbiamo tutti quelli che sono i problemi della gola e delle orecchie, quindi dalle otiti alle faringiti alle sinusiti, sono molto frequenti. E queste qui sono batteriche. E queste sono quasi sempre batteriche, però attenzione perché bisogna sempre, c'è sempre, purtroppo buona parte delle infezioni respiratorie hanno spesso una coabitazione, ovvero c'è un primo insulto che in genere è virale. Parliamo per esempio del raffreddore comune, parliamo per esempio delle forme di bronchiti, queste forme sono quasi sempre di origine virale. E in genere si autolimitano, cioè se uno ha la paziente di aspettare 3-4 giorni, il raffreddore comune e anche la bronchite passano da sola. Poi se non passano, oppure perché il sistema immunitario non funziona benissimo, oppure perché siamo in condizioni particolari, allora potrebbe esserci poi una sovrapposizione batterica che quindi poi ha un escurso, se un quadro clinico più impegnativo e per il quale può esserci bisogno di un antibiotico. Ho detto può esserci perché anche quando ci sono infezioni batteriche non è detto che sempre ci voglia un antibiotico. È importante però dire che quando c'è l'infezione batterica serve l'antibiotico e non un altro tipo di medicinale. Esattamente. Quando c'è l'infezione batterica, se il medico ritiene opportuno, sempre il medico. Ricordiamo anche questo perché qui se no finiamo nel fai da te completo. Ora un conto è fare il fai da te, andare nei negozi e comprarsi un prezzettino di cartoncino e farsi una casetta o quello che è. Un conto è nella medicina. La medicina il fai da te non esiste, ma non esiste non solo il fai da te, diciamo quello che uno fa della nono, ma neanche quello di internet. Soprattutto quello di internet. Perché qui si fanno dei pasticci che noi non ci rendiamo neanche conto, i pasticci che fa la gente. Io trovo persone che arrivano ai nostri studi che ci dicono ma io ho letto su internet questo, quello che poi ovviamente su internet si trova tutto e evidentemente anche il contrario di tutto. Bisogna quindi andare sempre dal medico, mi raccomando, il fai da te non è applicabile in queste situazioni, in nessuna situazione che riguarda la nostra salute. Assolutamente, mai il fai da te. Se abbiamo studiato così tanti anni noi medici credo che lo abbiamo fatto anche per qualche cosa, per cui cercate di consultare il vostro medico di medicina generale o il vostro medico di fiducia a chiunque esso sia e quando avete un dubbio lui ve lo dirimerà. Devo prendere un antibiotico? Sì no, devo prendere un antinfiammatorio? Sì no. Queste sono le condizioni in cui il medico deve saper dare una direzione. L'infezione batterica è trasmissibile da uomo a uomo e in che modo? Questa è una domanda molto bella. Io vedo la prima lezione che faccio in genere al corso di laurea di medicina o di infermieristica, spiego la differenza che c'è tra malattia infettiva contagiosa e malattia infettiva non contagiosa. Perché spesso cosa succede? Che nell'immaginario collettivo quando si immagina una malattia infettiva, si immagina una malattia infettiva contagiosa. Quindi io quando dico ah io faccio l'infettivologo e tu ti dico ah siamo di lontano perché magari lei sarà pieno di batteri e di virus. Ma io sicuramente come tutti noi, come tutti gli esseri umani sono pieno di virus, sono pieno di batteri. No, ci sono alcune malattie che si trasmettono. Facciamo un esempio su tutti, la tubercolosi per esempio è una malattia che si trasmette. Anche se bisogna dire che la tubercolosi non è così facilmente trasmissibile come uno possa pensare. Cioè non è che io strengo la mano o prendo uno starnuto e ho un colpo di tosse e mi sono preso la tubercolosi perché se no il mondo sarebbero, saremo tutti infettati a tubercolosi. Bisogna stare tante ore vicino a uno che elimina virus. Per cui non è così semplice. Ma diciamo che siamo partiti dal discorso da tubercolosi per arrivare ad altre malattie trasmissibili. Per esempio buona parte delle malattie virali esantematiche, quelle dei bambini, parliamo del morbillo, parliamo della valicella, parliamo della rosoria, sono tutte, la scallattina, sono malattie trasmissibili attraverso le particelle di flughe, quindi la via aerea. Quindi diciamo attraverso il respiro, come del resto la mononucleosi, definita come la malattia del bacio, ma la stessa influenza è un'altra malattia. Quindi se uno è affetto da una infezione batterica alle alte vie respiratorie e bacia il proprio partner, rischia di tassargli l'infezione. Allora diciamo che normalmente i batteri non sono così facili da trasmettersi, tranne appunto il batterio della tubercolosi. Sono più facili da trasmettersi i virus. Tra i batteri che si trasmettono, diciamo, attraverso il respiro, abbiamo tipicamente il meningococco, che è quello che fa tanta paura, cioè quello che dà la meningite, perché normalmente noi lo alberghiamo nel naso e quindi possiamo eliminarlo. E quando c'è una malattia manifesta si rischia di eliminarlo. Ma in genere quelli che sono i microorganismi che più facilmente vengono trasmessi da una persona all'altra attraverso il respiro, noi abbiamo i virus. Poi in che modo noi trasmettiamo ad un altro i microorganismi? Attraverso il contatto. Per cui è la via cosiddetta inapparente, cioè fondamentalmente noi usiamo o ci sono le nostre mani, quindi le mani o i letterecci o gli strumenti, e questa è la tipica via di trasmissione, per esempio, introspedaliera delle infezioni. Che fa tanto paura. Che fa tanto paura. Oppure ci sono i veicoli cosiddetti animati, quindi parliamo per esempio delle zanzare, parliamo per esempio delle zecche, che quindi sono in grado di trasmettere le infezioni. Quindi le vie sono un po' quelle, la via diretta, la via del contatto, la via attraverso i veicoli e poi c'è la via trasplacentare, quindi quella che è la via classica da mamma a bambino. Ci sono una serie di malattie che si possono trasmettere da mamma a figlio. Di recente si è parlato, e molto, anche di resistenza batterica. Qualcuno è arrivato a dire che nel giro di qualche secolo si potrebbero ripresentare delle malattie con una forma addirittura più virulenta, più potente, proprio perché il battero si è evoluto e resiste a quelle che sono le barriere che l'uomo ha imparato ad opporre, che però forse, utilizzando le male, poi possono provocare questo tipo di danno, cioè la resistenza del battero all'antibiotico. Esattamente, sì, noi diciamo che finalmente noi operatori siamo contenti che se ne parli, non solo sulle nostre mezze, quindi diciamo nelle nostre riviste scientifiche, nei nostri congressi, ma che ci sia la possibilità di parlarne anche ad alti livelli. Il Presidente Obama, parliamo di sei mesi fa, ha messo la resistenza degli antibiotici come uno dei primi punti, come obiettivo del sistema sanitario americano, del congresso, quindi di cercare di usare appropriatamente gli antibiotici. Quindi è diventato un argomento ormai non solo dei medici, ma come è giusto che sia di tutta la gente, perché è tutta la gente, tutte le persone che hanno fatto grande questo fenomeno, nel senso che a furia di utilizzare gli antibiotici in maniera impropria e anche così un po' con leggerezza, possiamo dire, abbiamo fatto sì che i batteri si sono fortificati, per cui sono diventati proprio resistenti agli antibiotici. Cosa vuol dire essere resistenti agli antibiotici? Che un antibiotico che vent'anni fa mi curava buona parte delle infezioni respiratorie, oggi ne cura solo alcuni, cioè solo alcuni di quei batteri rispondono a quell'antibiotico. C'è bisogno di dosi più elevate o addirittura di nuovi antibiotici, quindi di antibiotici diversi. E questo fa sì che anche infezioni banali, perché poi uno pensa sempre, ah ma i germi resistenti sono confinati all'ambito ospedaliero, perché sono problemi di bassetti, cioè dei miei pazienti. Non è vero, non è così, i germi resistenti sono anche presenti fuori dall'ospedale, per cui quello che ha fatto tanto rumore pochi mesi fa è stato di questa signora americana, a un certo punto ne hanno trovato un'escherichia colica, tipicamente il germe che dà le infezioni virulinarie, resistente alla colistina. E la colistina è l'antibiotico, ultimo baluardo, ultimo presidio nei confronti… Oltre quello non c'è più nulla, quindi la donna è destinata a… Oltre quello c'è il precipizio, cioè noi, ora dirò una cosa che è un po' complicata, ma forse abbiamo tutti più o meno visto un antibiogramma, no? L'antibiogramma è fatto col sistema sensibile intermedio resistente, cioè sensibile, semaforo verde, può usare quell'antibiotico, intermedio, semaforo giallo, è meglio che ne usi un altro, R, semaforo rosso, quell'antibiotico non funziona. Oggi noi abbiamo dei ceppi, cioè dei batteri, che hanno tutte R, cioè vuol dire che è il cosiddetto ceppo pan resistente. Quindi quegli antibiotici non servono più per quel tipo di batteri. Nessuno, per cui cosa dobbiamo fare? Fare dei cocktail, cioè mettere insieme diversi antibiotici sperando che insieme funzionino meglio che da soli, però non è semplice. Quindi come si combatte questo? Con la ricerca evidentemente perché è necessario trovare gli antibiotici sicuramente sì. Ma anche con la cultura, cioè con l'insegnare le persone ad usare in maniera consapevole e corretta gli antibiotici e soprattutto, ancora una volta l'abbiamo detto all'inizio, voglio dirlo ancora adesso, rivolgendosi al medico e seguendo in maniera pedissequa. Le istruzioni, io ormai devo dire che mi sento un po' un discorotto perché finisco di dire sempre le stesse cose, però prenderlo per i giorni in cui te l'hanno prescritto, al dosaggio in cui te l'hanno prescritto, nelle ore in cui te l'hanno prescritto ed esclusivamente per le patologie per cui te l'hanno prescritto. Per cui una delle cose che succedono tipicamente sempre è, bene, sto bene al terzo giorno, me l'hanno prescritto per una settimana, cosa faccio? Ne prendo tre pastiglie e poi il resto lo metto nell'armadietto. E poi la volta dopo mi viene un sintomo simile, magari non ha niente a che vedere quella volta prima e io cosa faccio? Prendo quelle quattro compresse che sono rimaste. Quindi cerchiamo di dare dei messaggi, di utilizzare gli antibiotici solo quando ce ne sia l'assoluta necessità. E allora seguiamo sempre le indicazioni del medico quando è necessario assumere l'antibiotico, questo per una corretta appunto terapia per le infezioni batteriche, adesso però cambiamo un argomento, professore, perché batteri, virus, entrambi, batteri e virus, sono responsabili anche di tante malattie cosiddette sessualmente trasmesse, le malattie venere e a proposito di quello, io trago sempre spunti da quello poi che leggo, ascolto e vedo da qualche altra parte, sono in aumento casi di malattie venere soprattutto tra gli adolescenti, in una fascia molto particolare e sensibile della nostra società, quella degli adolescenti, aumentano i casi di malattie venere, come mai? Allora questo è frutto del cambio di abitudini della nostra società, insomma io pur non essendo più tanto giovane, vivo tra i giovani e mi rendo conto che alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti sono diventati ormai comuni e quindi il sesso promiscuo, il sesso precoce e tutto questo fa sì che i problemi che prima avevamo più avanti si siano spostati più indietro, quindi oggi il primo rapporto sessuale si dice che avvenga intorno ai 13 anni e quindi è evidente che se il primo rapporto sessuale... È una media questa? Questa è una media nazionale, credo, è una media della società italiana di pediatria, parliamo di un primo rapporto sessuale intorno ai 13 anni, ovviamente poi ci sono le forbici, c'è quello che lo fa 11, c'è quello che lo fa 20, però diciamo che... In questo senso cosa significa? Rapporto sessuale completo, c'è una media 13 anni. Rapporto sessuale completo e quindi potenzialità di trasmettere le malattie sessualmente trasmesse, che non sono solo quelle venere, perché le venere sono una parte, quindi la vecchia concezione delle venere deve cambiare completamente. Qual è la definizione appunto di... La malattia venere è in genere una malattia che interessa, è una malattia macroscopica, quindi una malattia che interessa i genitali. Oggi le malattie sessualmente trasmesse, la maggioranza di queste non si vede e questo è il grande problema delle malattie sessualmente trasmesse. Ma, sa, definire grave o meno grave, per esempio la clamidia, che oggi è la infezione sessualmente trasmessa più diffusa, soprattutto nelle donne, si calcola che negli Stati Uniti il 50% della popolazione giovanile, parliamo di teenager, sia positivo alla clamidia. non la vedi, perché i sintomi sono assolutamente sfumati, possono addirittura non esserci sintomi, eppure fa dei danni enormi, danni enormi con danni permanenti, cronici, per esempio nelle donne la sterilità, quindi è qui che bisogna lavorare, bisogna lavorare, parliamo della clamidia, ma possiamo dire i stessi numeri della sifilide, crescono i numeri rispetto all'anno precedente di un 10-15% rispetto ai numeri degli anni scorsi, non parliamo rispetto a 20 anni fa, parliamo rispetto al 2014, quindi crescono le persone affette dalla sifilide, crescono le infezioni virali, l'HIV, oggi l'HIV non è più una... Non è una condanna a morte, ma comunque cresce. Non è una condanna a morte, oggi io devo dire che quello che dobbiamo dire ai nostri giovani, che hanno tutti questa paura enorme di prendersi l'HIV, oggi non muore più nessuno di l'HIV, grazie alle nuove cure. Oggi la sopravvivenza media di un soggetto che si scopre HIV positivo oggi, quindi siero positivo, oggi per HIV è più di 40-45 anni, per cui fondamentalmente finisci e nel frattempo arriveranno nuovi farmaci, muori di qualche altra cosa e non certamente di qualcos'altro, per cui oggi noi dobbiamo dire ai nostri giovani che... Però questo non vuol dire chiaramente far abbassare il livello dell'arme. No, anzi, quello che succede, cosa succede oggi ai giovani? I giovani dicono, ah io ho paura dell'HIV, per cui vengono da noi, fanno la visita, voglio fare il test, ho paura di eseguire il test e poi tu, quando anche hai fatto il test per l'HIV, sì, è evidente, ti sei levato un peso, ma non hai fatto niente, perché poi ci sono tutto il resto delle malattie che forse sono anche più pericolose. Tutto una serie di malattie molto più pericolose, molto più subdole, che lavorano nell'occulto e per le quali bisognerebbe fare una diagnosi precoce e quindi per le quali bisognerebbe avere gli strumenti per poterlo fare, che non vengono diagnosticate. Però qui c'è un problema culturale di fondo, culturale è, ah, vedo dietro di me adesso il preservativo, allora l'unico modo per poter limitare la diffusione di malattie sessualmente trasmesse, è l'uso del profilattico. Per tutti i tipi di rapporti sessuali. Tutti, allora l'unico modo sicuro, dalla A alla Z, diciamo così, dalla A alla Z, tutte le malattie sessualmente trasmesse, tutte esse, col preservativo hai la possibilità di ridurre. Ovviamente parliamo di quelle trasmesse attraverso quella via, perché poi ci sono altre vie attraverso le quali si possono prendere altri tipi di infezioni, per esempio la bocca o per esempio altri tipi di parti. Però diciamo che se uno utilizza il preservativo, per cui l'organo genitale maschile viene coperto dal preservativo, non vi è possibilità di trasmettere nessuna di quelle che sono le malattie di cui stiamo parlando. Quindi, dove sono i problemi oggi? I teenager normalmente hanno due problemi, uno è quello economico. Non hanno soldi. Esatto, non hanno soldi, per cui dov'è che risparmiano? Non risparmiano nel biglietto dell'ingresso in discoteca, non risparmiano quello che è la roba da bere, non risparmiano le cose da vestire, nella benzina e nel motorino, risparmiano i preservativi, che ahimè purtroppo costano ancora troppo e quindi c'è un problema, una barriera economica. C'è una barriera purtroppo culturale, per cui cosa succede? Che il giovane che ha un problema, il ragazzino che ha un problema sessuale, tende a non dirlo, per cui tende a non andare dal medico, spesso gli orari degli ambulatori obiettivamente non sono vicini ai giovani perché magari fanno orario nella mattina, i ragazzi finiscono la scuola alle due, le tre e quindi non hanno tempo di andare, tendono a parlarne magari neanche nella loro comunità e nella loro comunità c'è una grande ignoranza. Possiamo dire a questo punto che il genitore è la figura chiave di questa... Il genitore dovrebbe esserlo. ...di questa, come dire, trasmissione di una cultura, in questo divulgare una cultura improntata alla prevenzione. Il genitore deve parlare con i propri figli. Il genitore secondo me deve parlare con i propri figli ed è fondamentale, io invito tutti a parlarne, a indagare, però non è semplice, credo che un ruolo fondamentale devono avere le scuole, cioè fondamentalmente i ragazzi passano la maggioranza del loro tempo nelle scuole e quindi nelle scuole ci vuole da parte degli operatori, dai partiti degli insegnanti o eventualmente degli operatori di supporto, una forte educazione sessuale all'uso del preservativo, perché oggi, sa qual è uno dei problemi più grossi? Che pensano che attraverso l'uso della pilona anticoncezionale, che è diffusissima, forse esageratamente diffusa, va benissimo dal punto di vista della prevenzione di quelle che sono le gravidanze, ma non proviene le malattie sessualmente trasmesse, perché uno dice, ah, piga la pilola, allora sono tranquillo. No, assolutamente no. La pilona anticoncezionale ha una possibilità di prevenire le gravidanze, ma non ha nessun, in nessun modo previene le malattie sessualmente trasmesse. Quindi genitori, ma scuole soprattutto, e su questo però noi possiamo soltanto sensibilizzare chi di dovere ad intensificare questo tipo di attività, sappiamo che in alcune scuole si fa una attività sessuale, se ne fa tanta evidentemente, è un lapsus, ma ci permette di dire che se ne fa tanta tra i giovani, vabbè, questo non è un problema. Il problema non è farla o non farla, va benissimo che la si faccia, purché la si faccia bene, quindi farla bene vuol dire farla con tutte le precauzioni del caso e la precauzione più semplice, ce l'abbiamo sempre dietro, tra l'altro vedo anche quei preservativi rosso e blu che hanno un bel colore, serve per quello. Bene, noi speriamo di aver lanciato un messaggio utile, sicuramente utile, che venga recepito dai nostri giovani e prima ancora abbiamo parlato dei batteri invece del fare attenzione a come utilizzare gli antibiotici, ma il filo conduttore di questo possiamo dire è sempre il medico, in qualsiasi soluzione, in qualsiasi situazione il medico ha la soluzione per individuare la strata giusta ed evitarci degli errori, evitare di commettere degli errori che possono essere gravissimi sia sul fronte dei batteri, dei antibiotici, sia sul fronte delle malattie sessualmente trasmesse. Assolutamente, a favore sia dei virus che dei batteri. Che dei batteri, quindi in questo siamo in parità fra virus e batteri. Grazie, grazie professore, grazie mille. Grazie a lei. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento con Salute e Benessere è come sempre il venerdì alle ore 20, ci vediamo quindi la prossima settimana. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.